È stato un shock per tutti noi, non ci aspettavamo una decisione così importante. Tutte le nazioni non vedevano l'ora di partecipare ai giochi paralimpici di Tokyo, ma davanti a questa pandemia, posticipare è stata la migliore decisione per la prevenzione di tutti i nostri atleti e dello staff che il segue. Gli atleti di tutte le discipline sportive in questo momento non possono allenarsi e non sarebbero riusciti a prepararsi fisicamente e mentalmente per questo importante evento. Adesso dobbiamo riprogrammare tutta l'attività e prepararci al meglio possibile.